Ciao Nathan, com'è andato l'esame? Andato bene, ho preso la patente Fai un po' vedere? Ma secondo me quella lì è una carta d'entità, io non la vedo la patente Ah ok, perfetto Ma è vero o falsa? È vero, è vero È vera? Perfetto, è appena firmato allora Ok, ascolta un po', ma l'esaminatore cosa ti ha fatto fare? Ma in realtà mi ha indicato Fabio la storia doveva andare L'esaminatore guardava in basso Ok, non ti ha detto nulla Ma a manovre hai fatto qualcosa? A manovre ho fatto parcheggi ad L, parcheggi ad S e ho fatto un'inversione di marcia Ok, in missione in tangenziale, giusto? In tangenziale, tutta posta, tutta una meraviglia Ok, perfetto, allora sarai felice dell'istruttore e della scuola guida Felicissima Bene, bene Saluto e ci vediamo alla prossima, ciao